Le prime sensazioni sono di che siamo sperzi e lasciati a noi stessi, lasciati a un'organizzazione aziendale per fortuna molto elastica in quanto siamo stati chiusi dall'oggi al domani, da un venerdì a un sabato, cosa che ancora abbiamo fatto fatica ad ammortizzare nel tempo. Adesso è un riapri tutti, qualche giorno prima, con Draghi abbiamo migliorato di pochi giorni, ma in pochi giorni un'azienda come la mia con 10 dipendenti non riesce a riorganizzarsi, quindi io di conseguenza la domenica terrò chiuso per mia decisione. Il sabato farò il solito orario settimanale e continuo così, vado di mio, non sto più dietro alle loro angherie inutili in quanto noi non siamo un centro commerciale e quindi di conseguenza non mi abbasso a loro apri e chiudi per un richiudi a settembre di nuovo sotto Natale. No, io sono organizzato con i miei ragazzi, facciamo i nostri orari, apriamo anche a Pesaro e ci stiamo organizzando in questo modo. Punto, sono molto incazzato sulla storia. Sicuramente a Natale tenteremo di organizzare in questi due mesi luglio-agosto come ammortizzatori per una riapertura domenicale sotto Natale. Non sarà una riapertura poi a gennaio-febbraio, mi devo studiare insieme ai miei ragazzi una strategia per questi tre mesi dove bisognerà fare ovviamente più ore del normale o assumere delle altre persone da formare, che è molto difficile in questo periodo. Aprirai nuovamente anche a Pesaro in un anno complicato come questo, Ratoppi. Sì, sì, era una promessa che mi sono fatto, un sacrificio che ho fatto. Ognuno ha il suo capriccio. A me andare via da Pesaro in quel modo è stato devastante, ingiusto. Non mi sento di aver sbagliato niente. Io avevo preso un locale di mille metri quadrati dove svolgere la mia attività e me ne sono trovato uno da 250 metri di vicinato. Ho messo l'avvocato e se ne sta occupando l'avvocato mentre io penso alla mia azienda.